Lo abbiamo già visto ieri, da 10 a 13 le bandiere blu assegnate all'Abruzzo, fra le semi new entry, nel senso che più che new entry è un ritorno, cioè la città di Francavilla al mare che l'aspettava per l'anno scorso. Non è arrivata, ma è arrivata quest'anno, qualcosa è cambiato, evidentemente sono stati soddisfatti meglio i parametri imposti dalla FE, fatto sta che Francavilla è città bandiera blu. Si era parlato di un tratto di costa, di una Francavilla Nord e Assessore Luisa Russo ci può spiegare esattamente che cosa significa? Esattamente, siamo tornati finalmente a conseguire la bandiera blu dopo diversi anni di assenza, dal 2015 che mancava nella nostra città. Quest'anno l'abbiamo richiesta per un tratto della zona Nord di Francavilla per concentrarci meglio e rispettare tutti i parametri richiesti per conseguire la bandiera blu, perché si tratta di 31 parametri, non si parla solo di balneabilità delle acque che sono comunque ottime e negli ultimi giorni abbiamo avuto risultati sorprendenti, ma si tratta di tanti altri elementi per i quali c'è stato un grande lavoro della nostra amministrazione, dei cittadini, degli operatori turistici e tutti quanti insieme siamo arrivati a questo grande traguardo. Fondamentalmente è stato molto utile lavorare sulla mobilità sostenibile, su tutte le infrastrutture che hanno potuto migliorare i dati sulla mobilità sostenibile, sulla raccolta differenziata, i vari incontri sull'ambiente, svolti didattici, svolti nelle scuole, quindi sono tutti elementi che ci hanno portato a questo straordinario risultato. Ringraziamo ovviamente gli uffici, l'ufficio tecnico, il demanio, l'assessore all'ambiente William Marinelli e tutta l'amministrazione, insomma siamo veramente soddisfatti, si tratta di un volano per la nostra città. Tra l'altro la vigilia di un'estate che essendo comunque in tempi di pandemia può annunciarsi difficile, ma forse un po' più semplice di quella dell'anno scorso, perché almeno qualche luce si intravede. A Francavilla come sta andando a livello di prenotazioni? Le prenotazioni stanno aumentando, sentendo gli operatori turistici vediamo che per ora molti si informano e sono ancora in attesa di dare conferma delle prenotazioni, anche se per il mese di agosto già sono quasi a completo, luglio sta andando bene, si stanno muovendo per giugno. Sicuramente c'è ancora dell'incertezza, ma siamo fiduciosi perché già l'estate scorsa è stata una grande estate, nonostante la grande situazione di difficoltà, quest'anno con le vaccinazioni che stanno aumentando e i numeri ridottissimi che abbiamo in questo momento siamo veramente fiduciosi, crediamo di poter fare un buon lavoro e di poter ospitare al meglio i turisti.